Grazie a tutti. Sì, c'era un ragazzino, non cattiveria, niente. Dunque, cosa è mancato allora alla tua squadra? L'hai detto questa cattiveria che non avete trovato? La grind è che ci dobbiamo mettere noi le partite, che purtroppo non va in tutte le partite. E' un compagno e un avversario che ti è piaciuto di più? Un compagno è Davide Mastrazio, numero 4, e l'avversario che è numero 4. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.